I processi si fanno in tribunale, non altrove. Vedremo Filippo Turetta in aula il 15 e il 18 luglio, quando a Venezia si terrà l'udienza preliminare per il femminicidio di mia figlia Giulia. Non vuole dire altro e ha anche annullato degli impegni pubblici Gino Cecchettin dopo che è stato divulgato il verbale dell'interrogatorio confessione reso da Turetta lo scorso dicembre nel carcere veronese di Montorio di fronte al pubblico ministero della città lagunare Andrea Petrone. In quelle pagine non ci sono solo i particolari più crudi delle coltellate dei tormenti inferti a Giulia Cecchettin, ma anche il racconto di un'ossessione, un rapporto fatto di regali e di comportamenti progressivamente più violenti, soprattutto da quando Giulia aveva mostrato la forte intenzione di troncare la relazione. Nel marzo del 2023 Giulia aveva lasciato Filippo per due settimane, da allora lui era diventato insistente e ossessivo, discussioni animate, in due di queste Turetta aveva colpito o strattonato la ragazza, un'app per controllarle del telefono. E poco prima del tragico epilogo l'emergere di elementi che fanno pensare che Turetta stesse pensando al femminicidio da tempo, tanto che all'ultimo appuntamento si presenterà sì con un piccolo regalo, ma anche con i coltelli che userà per uccidere. La procura contesta Turetta l'omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e legame affettivo, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi. Di fronte al magistrato, il giovane ha cercato di allontanare da sé l'ipotesi della premeditazione, ha parlato dei suoi tentativi di suicidio di come l'appello dei suoi genitori, visualizzato fortunosamente, lo abbia fatto desistere. Dei tentativi di depistaggio durante la fuga. Ma ora aspetterà il dibattimento a fare giustizia.